Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, stavolta, cioè di nuovo, non sono solo, presentatevi di nuovo, che cazzo? Allora Matteo, qui c'è l'Earthless, quello senza cuo, da melone o nail, oggi ci riproviamo, ormai la sfiga dello stardosto Destiny. E' proprio la fortuna della parte, la fortuna della merda, la fortuna di Andrea che ha calpestato la carta, da melone, guardiamo come sbusterò altre super di merda, guardiamo, oh, ormai è sempre lui, ma è perché ti è innamorato di te, sti tizi andiamo piano, si altra merda, yes, ma vedi che ho sbustato la stessa carta, cioè ma che è lo stesso pack dell'altra volta, ma vaffanculo, E che cazzo? No, no, questa è diversa, questa è diversa, no, questa è diversa, è questa, ecco, questa c'è, per la del pack, sì, sì. Eccanolo, c'è un'altra. Preghiamo, ormai stardust, mettiamoli in evidenza, chi ha un bel evidenziatore? l'hai lasciato a casa sì, ho trovato una carta comune un'altra carta comune un'altra comune chi è la super? cos'è sto coso? è un pendolo oddio ma cos'era sto coso? è giustamente come è carino via la luce allora ragazzi stardust è triste mandatemi un euro a testa anche due farò altri opening molto volentieri vi manderò le carte di email scusate il taglio ma problemi tecnici della mia fotocamera bellissima la sfiga vuole che io dia queste se le volete chiedete ve le regalo pure lasciate un mi piace iscrivetevi al canale lasciate un commento e siete tutti dei bastardi di un trucco ciao i a a a a a a Grazie a tutti.